È un'esperienza molto bella perché parte dal tuo corpo e lo considera un mezzo espressivo. Per me, che veniva da un'esperienza di un corpo difficile e malato, è stata un'esperienza bellissima. È pazzesco come qualsiasi informazione arrivi da parte sua, sia molto chiaro il fatto che arrivi da un professionista di livello altissimo. Anche le cose più semplici vengono trasmesse con una profondità, un'intensità che lo contraddistinguono. È un'esperienza comunque arricchente dal punto di vista umano perché ti insegna a stare con gli altri nel modo più semplice possibile, creare qualcosa insieme, creare un legame e costruire una storia. Sono sensazioni, emozioni che dopo ti restano nel cuore, insomma che tu te le porti a casa e che ti trasformano. Perché mi è piaciuto molto e secondo me è un'esperienza bellissima. Io ho deciso di partecipare perché cerco ogni occasione possibile per formarmi in quello che amo e poi perché la mia motivazione personale è che da anni sto portando avanti un lavoro di promozione culturale sull'accessibilità della danza a tutti i corpi. Io ho un problema di disabilità e questo non mi impedisce di volare. Grazie.